Il premio alta velocità, diciamo, stavolta in giro, è un'attività di 4,4, 3 in Italia, proveniente da Reggio di Sarabia e Centrale, il diretto Torino-Porta Nuova, delle ore 8.05 e in arrivo al binario 2. Attenzione! All'ultanasica è la linea grande. Per la Mancara, Scala, San Bernardino, Caglava, Maragher, Sardi, Cicciotta, Valizio, Paglio della Lucania, Castelluoco, Agroco di Castellandale, Salerno, Napoli Centrale, Napoli Alcatoa, Roma Pertini, Roma Pertini, Roma Puntina, Firenze, Santa Maria Pertini, Volunti Centrale, Fremio, Ligia, Vene e Guamara, Milano del Vero, Milano del Vare, Sordino Porta Siusa, La Corte della Lucina, 4 in Italia, 3 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 in Italia, 4 in Italia, 4 in Italia, 3 in Italia, e ci sono colorado per City di Roma, Sono colorata per lui. Sia un anno 4, pentruvolezia solitore, 6 in Italia, 4 in Italia, 8 in Italia, 5 in Italia, 5 in Italia, 6 in Italia, 6 in Italia, 7 in Italia, Grazie a tutti. 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 Ciao Treno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.